E questo è un bel problema, perché vuol dire che è successo qualcosa nella modernità, o nel suo lascito, nella tarda modernità. Cioè quella complessa costruzione che io cerco di far emergere, di restituire, moderna, che non è affatto riduzionista e che è fatta del tenere insieme soggetto e sovranità, libertà e Stato moderno e collettività, diciamo così. Anche quando lo Stato moderno con le sue trasformazioni diventa proficuamente, e a caro prezzo perché attraverso tragedie e conflitti anche estremi, diventa Stato delle masse, Stato pluriclasse, cioè Stato dei partiti, ovvero un contenitore dentro cui fioriscono altre soggettività, ma non possono fiorire veramente senza quel contenitore istituzionale, ecco, quando questa costruzione, diciamo così, della modernità non unilaterale, memore, giustamente diceva il professor Galli, dell'origine, quindi memore dell'ipoteca teologica e politica dentro di sé, un'ipoteca non sostanzialista ma pienamente moderna. Qualcuno ha detto che questo è un libro scritto da un moderno, più moderno di ogni moderno, è vero, citando Pasolini, ovviamente la poesia splendida di Pasolini, io sono una forza del passato, nella tradizione il mio nome, io mi riconosco perfettamente in quella poesia, e però quella è la poesia di un moderno che pensa radicalmente, e vive anche radicalmente la modernità, certo, vede anche, come dire, le macerie. I poeti vedono, antevedono, non si sa come, non hanno bisogno di teorizzare, intuiscono, intravedono, io purtroppo non ho quel dono, però è poi passato tempo, è una banalità questa, però è vero che ogni volta ci troviamo a rimanere quasi sconvolti di fronte alla capacità dei poeti, Pasolini non è stato, di vedere così prima, no? Io questo dono non ce l'ho avuto, però non ce l'ho, e quindi non mi rivendico questo. rivendico però, diciamo, il tentativo teorico di rendere conto del perché siamo arrivati qui, ecco, di alcune delle ragioni per cui siamo arrivati qui. Cioè in una situazione drammatica, tanto per essere chiari. Io non credo nel postmoderno, il postmoderno è una mistificazione, anche se è andato per la maggiore, ha creato illusioni. In realtà poi questa posta, questo oltre, questo territorio che è nuovo, che avremmo conquistato, non esiste, non è mai esistito. Viviamo in un'umbratile crisi del moderno, della tarda modernità, lavoriamo ai bordi, allora è meglio lavorare ai bordi, perché almeno forse si capisce qualcosa in più, lavorare criticamente. Poi sì, può darsi a un certo punto, ci sarà un transito, anche se non la vedo facilissimo, perché ci siamo costruiti come tramonto che non passa l'Occidente. Quindi se passiamo, passiamo, perché ci sarà altro. Quindi forse sarebbe meglio assumerci la nostra legittimità fondata su una voragine, sfondata cioè, e lavorare su una voragine nel senso per evitare che crolli totalmente, per costruire le cupole possibili o i templi possibili, laici, questo è un libro laico, sta in piedi totalmente su un piano laico secolare. Dopodiché è indubbiamente vero, questo lo dico impudicamente, che è un libro che ha un'inquietudine dentro, ha un'inquietudine rispetto, questa bella in qualche modo, verso lo spirito assoluto, il sapere assoluto, e lo spirito assoluto. Ciò che c'è, il mondo in cui siamo, proprio perché è costruito le nostre società, la dimensione del politico e del giuridico, proprio perché è caratterizzata da un'eccedenza che non può mai essere consumata, esaurita, che è una risorsa, è condannata a rimanere nella sfera dell'ascissione, dell'inconciliatezza, ma non è un, è quasi una risorsa, non è un peccato, è meno male, perché, per questo io non ho mai creduto alle ipotesi ireniche, non credo al cosmopolitismo irenico, non credo manco francamente all'idea dell'unificazione dell'umanità, grazie al comunismo e in virtù di una transustanziazione dall'interno, quelli sono miracoli, allora meglio Dio e meglio la religione, a ben altre, cioè siamo in una valle di lacrime e siamo in un mondo, però si possono spostare i rapporti di forza, è accaduto, semmai il problema è che per fare cambiamenti parziali, per fare le riforme, per capirsi, bisogna un po' credere nella rivoluzione, bisogna avere una fonte che alimenta l'energia molto forte, oggi è totalmente inaridita, infatti mi pare che non si riescono manco a fare i compromessi socialdemocratici, diciamo così, o keynesiani. Questa è una delle questioni, però questo è un libro, lo dico, cristiano, per certi aspetti, il professor Galli mi rimane, ma lui capisce benissimo cosa voglio dire, cioè che prende molto sul serio il lascito del cristianesimo, cioè intanto, attenzione, il cristianesimo, come dice Gauchet, che ha scritto un bellissimo libro, Il disincanto del mondo, in cui metteva insieme la dialettica fra logos e mutos, quindi l'antico, il mondo pagano, e quella fra la dialettica fra trascendenza e immanenza, e naturalmente il cristianesimo in questo è un passaggio decisivo, attenzione, il cristianesimo è l'uscita della, è la religione dell'uscita dalla religione, è quella che crea le premesse per la secolarizzazione, per la laicizzazione, attraverso un filtro di contenuto certo, ma anche attraverso l'antagonismo rispetto alla Chiesa, alle Chiese già, ma soprattutto alla Chiesa Cattolica che eredita Roma, eredita il diritto romano, lo rielabora nel diritto canonico, eredita l'idea dell'impero, della rappresentazione visibile dell'invisibile in qualche modo o meglio, Roma si rappresentava quello che c'era, siccome con l'elemento cristiano, l'elemento teologico diciamo così, Dio è il Dio che viene, è il Dio assente, è il Dio che si tornerà come un ladro nella notte, dice Paolo, il regno di Dio, quindi non preoccupatevi perché lavorate, fate le vostre cose, se obbedite alle leggi, Paolo è un genio in questo, c'è Paolo, è un genio politico che ha creato la chiesa, che dura non a caso da duemila anni, Lenin, non c'è Mars, ma c'è Lenin evocato attraverso Gramsci, è il Paolo del Novecento, il San Paolo del Novecento, molti di noi, qui poi siamo in una regione, abbiamo creduto a una chiesa fondata da quel signore, peccato che è durata settant'anni, perché, 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 per tanti motivi, ma c'è una ragione credo di fondo filosofica, ovvero, se tu puoi giocare sempre fra cielo e terra, appartiene alla terra, sei di questo mondo come il cattolicesimo politico, no? Ma, già da Paolo, veramente, era il messaggio che dava ai suoi, e allo stesso tempo non sei del tutto di questo mondo, l'apertura, la memoria dell'eccedenza, ce l'hai dentro, e puoi giocare, anche abilmente, ambiguamente, strumentalmente, a volte, su due piani, almeno su due piani, e naturalmente se ti devi realizzare, se devi far sì che l'alta marea, l'intensità del fervore sia costantemente presente in un ordine immanente, che sì, c'ha internamente dei miti, c'ha delle trascendenze interne, ed è fondamentale che le abbia, ma vive anche di stasi, e poi vive di pianificazione, vive di tecnica, vive di programmazione, vive di cose che poi non hanno manco funzionato, che comunque sta su un terreno che non può veramente assorbire le attese dell'assoluto, che sono quelle che si manifestano nell'arte, nella religione, e nella filosofia, diciamo così, nel grande pensiero critico, e c'è un onere politico enorme, c'è la politica che è caricata di qualcosa che forse non può. Naturalmente è stato qualcosa di grandioso, è stata un'immaneresia moderna, europea, che ha fatto impazzire le elite europee, compreso Schmidt, che infatti diceva arriviamo sotto gli occhi dei russi, è sempre questa torna, per ragioni diverse, ma questa ansia, però è un'ansia anche fascinosa, perché sono lì che ci guardano, e sono nostri europei, però, allora poi, era proprio l'idea qui che sta succedendo, questi con l'idea di farla finita con lo Stato, di fare la rivoluzione, fanno la rivoluzione antiborghese, antieuropea, stanno realizzando lo Stato più intensamente statale del Novecento, stanno facendo il leviatano bolshevico novecentesco, cioè è una roba insopportabile, che porta appunto ai fascismi, ai nazismi, ricordo che in una prima fase sia Mussolini che Hitler furono osannati, non solo dai fascisti e dai nazisti, dal popolino, no no, furono osannati dalle elite conservatrici e ultraconservatrici europee, compreso Hitler, basta leggere la bellissima biografia di Fest, che lo racconta molto bene, poi a un certo punto si sono resi conto che era un filino eccedere, andava un po' troppo oltre e quindi hanno incominciato ad avvertire Churchill, in modo particolare, che c'era un problema, ma ci è voluto per far capire che c'era un problema. Quella cosa lì comunque è stata, è stata l'occasione per costruire un'alternativa politica vera in Europa, non a caso c'era la guerra anche allora, la guerra è stata decisiva, il fattore guerra, viene e dice questa è la guerra dei borghesi, delle potenze capitalisti e noi la chiudiamo e questo alimenta una mobilitazione in Europa poderosa, ma il motivo che mi interessa di più c'è gli operai che erano anche quelli socialisti, tutti gridano a Lenin, ci sono testimonianze storiche, a Torino, quando si sparge la voce della Russia e esce dalla guerra e la Russia è leninista, polucevica e viene diffuso il discorso di Lenin c'è un entusiasmo radicale, il che vuol dire che quando ci sono le guerre possono accadere delle cose, questo apre una piccola finestrella di speranza sull'oggi, forse, visto che siamo, non ce n'è per nulla, no? c'è solo da aver timore, c'è solo un orizzonte cupo, ma la cosa più importante è stata che quell'esempio che poi non ha funzionato per niente ha rappresentato una sfida, uno stimolo poderoso perché qua in Europa si facesse qualcosa di migliore di loro o perlomeno si facesse un compromesso fra capitalismo e democrazia sociale, diciamo così, cioè si è realizzato lo Stato delle masse come un regime politico non integrato da una coazione autoritaria, qual era, pur con elementi modernizzanti, qual era quella del fascismo e del nazismo, ma a un prezzo enorme, ma uno Stato pluralistico, un'unità politica pluralizzata e il modo era uno solo, il lavoro che non a caso sta al centro della Costituzione, anzi all'inizio, l'origine nostra è la Costituzione. L'inclusione, il welfare diciamo complessivamente, l'inclusione sociale nella cittadinanza democratica attraverso il welfare, i partiti e i sindacati. e qui veniamo, ci sarebbero mille cose da dire, ma a un punto che è decisivo, cioè quali sono le condizioni per tornare ad avere una politica, ad avere politica. Il libro è il resoconto di che cosa significa veramente politica, desostanzializzata, ma eccedente, moderna e anche modernamente matura, diciamo così, per il resoconto del perché l'abbiamo demolita o comunque dei passaggi che hanno contribuito a demolirla e anche un po' un'invocazione per rimetterla in piedi. Politica come eccedenza, teologia politica è vera, significa eccedenza, vuol dire non accettazione dell'idea che non c'è alternativa. La Tatcher l'aveva detto, che tutto, questo è un libro contro l'immanenza assoluta, che tutto ciò che c'è è qui, siamo schiacciati. Guardate, una posizione del genere non ci fa capire nulla, perché poi hai l'urto della guerra, dei conflitti identitari, dell'ingiustizia, del fatto che le ricette dell'immanenza, cioè quelle tecnocratiche, falliscono miseriamente e del fatto che il capitalismo se diventa una religione immanentistica, non fa più le belle cose che comunque anche ha fatto, ha consentito, cioè non fa più la Ferrari, ma divora se stesso e drammaticamente si attacca al vettore tecnologico attuale consegnandogli un potere totalitario, diventando un grumo di potere totalizzante, nell'illusione che l'ennesima distruzione creatrice, a caro prezzo, porterà chissà quali i risultati, temo che questa sia nient'altro che camminare su un ciglio dentro cui c'è veramente, sotto cui c'è veramente un disastro, cioè mi chiedo il capitalismo assolutizzato, come immanenza assoluta, che diventa metacapitalismo, lasciato a se stesso, non è che è solo potenza distruttiva, è stato anche grande creazione, fare cose utili e belle persino, e oggi non vedo cose utili e belle, vedo il contrario, quindi attenzione, cioè se noi siamo schiacciati nell'ideologia dell'immanenza assoluta, non possiamo sollevarci, non possiamo immaginare alternative, non si può pensare diversamente, a parte diventiamo cretini, cioè diventiamo omologati e aderiamo a tutte le bischerate che ci circondano e facciamo finta di confliggere come maschere specularmente su fesserie, saremo, da un lato, e questa è una miseria culturale, un impoverimento culturale, ma dall'altro non abbiamo più alcuno strumento e leva per poterci, per poter prendere in mano la situazione e dire ragazzi ma qua si finisce nell'abisso, appunto, si finisce in una situazione che non è governante, la guerra è un esempio, la guerra totale, ma ce ne sono altri, ora il patto di stabilità, so che è rivenuto Prodi, ha anche fatto qualche critica, qualche, e datevi, c'è un bel articolo di Marco Palombi, uno dei pochi giornalisti seri che ci siano in Italia, che racconta che cos'è il patto di stabilità nuovo che entrerà in vigore perché non hanno concesso presto l'idea di Giorgetti di chiedere l'invii di anni oltre il 24 e non passa, se lo andate a leggere è la replica incattivita di quello precedente, degli errori del passato, io mi ricordavo che la Commissione che a un certo punto in Europa si era cominciato a dire beh certo abbiamo fatto dei calcoli sbagliati, l'austerità non ha funzionato, ora a parte il fatto qui c'è grande cinismo, cioè io non so, non mi chiedo se è più l'occinismo o l'ottusità, insieme forse si mette, e si manzò solo tedeschi, per pure l'altro che vanno dietro, cioè abbiamo sottovalutato il moltiplicatore, guarda caso, se tu demolisci la domanda interna, non paghi la gente, crei disoccupazione, fai tutto quello che ha fatto Monti e altri poi, il PIL ne risente, pensavamo ne risentisse meno, invece proprio ne ha risentito tanti, abbiamo sottovalutato il moltiplicatore, questo a me pare una cosa ridicola, perché a naso se uno fa economia, non biologia, ma economia seriamente, con un professore che non è un servo o un mentecatto, ma direi a giurisprudenza al primo anno, se fai bene economia politica, una cosa la impari, che se tu attacchi, aggredisci la domanda interna, a naso avrai un problema, col PIL, eppure col debito, poi, diciamo, guarda, è aumentato il debito, ma guarda che, allora andate a vedere il patto di stabilità che hanno in mente, a rindranghete, rimettono le stesse cose di prima, è iperprociclico, quindi se c'è una situazione difficile, ti peggioro il ciclo, che siamo al grado zero, perché il buon Keynes non era così fesso da limitarsi a dire, questo proprio è il minimo sindacale, da limitarsi a dire quando c'è un ciclo negativo bisogna fare politiche anticicliche, poi quello diceva molte altre cose, però questo è il grado zero, quindi noi oramai essere schiacciati sull'emalenza assoluta significa non capire neppure che siamo al grado zero e che quindi siamo destinati proprio a sprofondare, meritatamente, io ho avvolto la tentazione di dire vabbè, il tramonto dell'Occidente è stato profetizzato cent'anni fa, adesso le civiltà periscono, cioè andate al diavolo a quel punto, spero di no, spero di no, anzi il libro l'ho scritto in fondo con l'idea che possa non essere l'idea. Il libro non si conclude. No, il libro assolutamente c'è uno scatto finale. Nel libro c'è una speranza è l'ultimo capitolo del libro in conclusione, ora chiudo su questo, si intitola Il senso di ciò che manca, cioè io credo che poi questo avvertimento, il senso di ciò che manca vuol dire due cose, uno che avverti che manca qualcosa, che non hai, che per vederlo devi andare al di là di te stesso, ti devi sollevare, appunto non devi accettare che non c'è alternativa, e anche che ha un significato il fatto, che c'è un significato da cercare, diciamo così, e da elaborare. Quindi io sono convinto che prima o poi un evento ci sarà, un sollevarsi per il codino si manifesterà, che a livello, chiudo su questo, è una cosa, un complimento che mi è stato fatto, perché Pasquale Serra mi ha detto tu con questo libro che ha un ancoraggio, non abbandoni mai la fedeltà al moderno, quindi non c'è tradizionalismo, non c'è, insomma, non ci sono quei rischi là, però certo ti spingi all'estremo della critica e della radicalità anche della critica, però non distogli mai lo sguardo da quello che sai che è veramente importante, i scelti popolari, quello che accade veramente nel popolo reale, incarnato, che è chiaro che è una costruzione, ma chi l'ha disfatto? Oggi ci si lamenta anche ieri a Firenze e i cari colleghi, eh ma lo vedi la neoplebe, sì ma la neoplebe è frutto di che? I populismi, il momento populista fallito, certo i limiti dei populisti, ma vogliamo raccontare la storia, ce la ricordiamo la Grecia, il colpo di Stato in Grecia, ci ricordiamo il veto a Savona e ci ricordiamo come sono stati costituiti dei governi in Italia? l'immanenza assoluta porta alla logica del bunker e ad essere travolti, quindi in qualche modo questa che viene vista come una proposta come dirardita e forse persino pericolosa è in realtà una ancora di salvezza, non è che me l'amvento io, semplicemente attraverso, ricordando quello di cui non dovremmo dimenticarci, cioè la lezione, in fondo è la lezione dei nostri maestri di Gramsci, di Hegel, questo, e sapere e vedere in quello non aver paura di vedere in loro nella modernità di cui siamo figli anche l'elemento inquietante la potenza del negativo per questo Schmitt non viene demonizzato, nessuno propone Schmitt ma pensi, per me Hegel ha risposto a Schmitt antilitteram, quindi non abbiamo paura perché? perché se noi continuiamo a girare il capo dall'altra parte a non guardare quello che ci fa problema ci verrà addosso un'immediatezza non mediabile, e finiremo male e sarà giusto e io non mi rassegno a questa ipotesi grazie